Gelos Keratin, una linea completa con finalità anti-age. Grazie al ricco mix proteico presente in ciascuno dei prodotti, composto da cheratina, proteine della seta e un estratto di caviale, questi prodotti, grazie a un uso settimanale, sono in grado di ripristinare lo strato cuticolare esterno, rendendo quindi il capello setoso al tatto, morbido, facilmente districabile e soprattutto incredibilmente luminoso. Dopo aver deterso i capelli con lo shampoo, presente nel doppio formato 300 e 1000 ml, e aver nutrito il capello e districato con la maschera, anche se è presente in un doppio formato 500 o 1000 ml, prima dell'asciugatura ogni cliente potrà scegliere tra tre differenti tipi di prodotti da utilizzare singolarmente o che possono essere anche mixati per combinarne gli effetti. Lozione ristrutturante Keratin, presente in un doppio formato, box con fialetta da 10 ml o bottiglietta con pipetta per un'applicazione diretta, ideale per donare setosità e avvolgere il capello con le sostanze proteiche già enunciate, a cui aggiungere un mix di oli in grado di idratare il capello. In alternativa possiamo utilizzare la crema ristrutturante anticrespo, pensata per i capelli più ruffi, per quei capelli che assorbendo l'umidità esterna tendono a gonfiare e a perdere la piega. Qualora il nostro cliente invece abbia delle doppie punte molto radicate, ci viene in aiuto il trattamento doppie punte ristrutturante, un olio estremamente ricco e denso da applicare direttamente sulla mano e poi passare solo sulla parte finale del capello per andare a sigillare le doppie punte più estreme. Linea Keratin di Genus a base di proteine per riparare lo strato esterno dei vostri capelli.